Tocca i G6 per l'ultima gara della giornata, anche per loro partezza piuttosto tranquilla. Ma è Ambrosi dalla San Pellegrino ad agitare subito le acque. Come vediamo il tentativo di Ambrosi non è andato a buon fine, ma è ancora la San Pellegrino con Pezzimi a provare un allungo. E ora Mazzelli dell'Edile Rosa che prova un contropiede, ma la San Pellegrino non sta a guardare. Questo tentativo sembra aver prodotto i suoi frutti, sono infatti Mazzelli e Ambrosi al comando. Poco più indietro Toninelli e Pezzimi della San Pellegrino cercano di rientrare. La mia distrazione, la superficie liscia dell'eco. Al decimo dei 14 giri la situazione è stabile, è sempre la coppia formata da San Pellegrino e Edile Rosa al comando. Silenzio, dammi solo, anestetici sorrisi ancora. E' Mazzelli dell'Edile Rosa che prova all'allungo il suono della campana, ma Ambrosi è attento e è subito sulla sua ruota. E dopo una lunghissima volata Ambrosi Marco della San Pellegrino riesce a vincere davanti a Mazzelli e Alessandro dell'Edile Rosa. Al terzo posto troviamo Toninelli e Michele della San Pellegrino davanti al compagno di squadra Pezzimi Loris. Al terzo posto troviamo Toninelli e Pezzimi. A presto.